Gabriele Menziano Revisoree 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 Buonasera. Dunque, i ragazzi del TED quando mi hanno chiamato mi hanno dato solo una regola, quella di non leggere niente, soprattutto la biografia, e quindi io ve la leggo. Allora... un po' lunga, eh? sono nati in un ospedale non profit, ho fatto le scuole elementari e medie presso una scuola non statale non profit, ho fatto ginnastica, ho fatto parte di una squadra di ciclismo, la Forti e Liberi, che era un'organizzazione non profit. Ho ricevuto una borsa di studio da una fondazione privata, un'organizzazione non profit, per frequentare una università americana, la New York University. Il mio primo lavoro è stata la ConfCommercio di Bologna, che è un'organizzazione non profit. I miei fondi pensione sono gestiti da una mutua privata non profit, ho fondato, impegno molto del mio tempo, nell'associazione festival del fundraising, che è un'associazione non profit, due dei miei figli vanno ad una università non statale a Milano, una non profit, la terza ha imparato a suonare uno strumento musicale presso una scuola di musica non profit. dono alle organizzazioni non profit, stasera sono qui al TED, che è una non profit, e la casa di riposo, dove i miei figli mi potrebbero mettere da vecchio, è un'organizzazione non profit, ma soprattutto la mia tomba sarà all'interno di un campo santo gestito da un'organizzazione non profit. quindi tutti voi, tutti noi, tutte le persone che sono qui presenti, io non sono speciale in questo, siamo attraversati dalle organizzazioni non profit, non ce ne rendiamo nemmeno conto di quanto abbiano a che fare con la nostra vita le organizzazioni non profit. per fare tutto questo, in un qualche modo, bisogna rendersi conto che ci vogliono dei soldi. Ci vogliono dei soldi, ce ne vogliono tanti, perché sostanzialmente quando noi pensiamo al dono, pensiamo di avere chissà fatto quale cosa, in realtà se facciamo due conti e paragoniamo i 6 miliardi di donazioni con i 1.800 miliardi di prodotti interno lordo, cioè, semplifichiamo, sopra acquisti, sotto doni, noi potremmo dire che sostanzialmente se andassimo in un supermercato e avessimo uno scaffale di 100 metri dedicato alla donazione ci sarebbero 30 centimetri. In America ci sono 3 metri rispetto ai 100 metri, però più o meno è comunque una percentuale molto, molto, molto piccola. Doniamo poco e poi doniamo anche male. Doniamo male perché pensiamo al mondo non profit come uno spazio di gentilezza, di educazione, di volontariato, di spazio in cui uno, tutto sommato, fa quando è residuale. Ma non pensiamo al mondo non profit come qualcosa che possa cambiare profondamente la società. quello è delegato ai politici, al governo, noi paghiamo le tasse, noi votiamo, tutto sommato il nostro dovere l'abbiamo fatto, mentre chi deve cambiare veramente sono altri. Il mondo non profit può cambiare, può cambiare se cresce, se diventa più importante. Allora questa sera dico proviamo a immaginare cinque consigli, cinque, piccoli, brevi, semplici, per pensare a donare in un modo diverso, a donare in un modo un po' più intelligente, un modo che abbia più effetto sul cambiamento, che in un qualche modo generi più cambiamento. cinque, cinque cose molto brevi. La prima è, noi facciamo, mettiamo il mondo non profit in un grande secchio, per cui, vabbè, sappiamo cosa vuol dire fame, cosa vuol dire cancro, cosa vuol dire tumore al seno, cosa vuol dire malattie renali, cosa vuol dire disabilità, cosa vuol dire, più o meno, ce l'abbiamo un'idea di questo. Però non abbiamo un'idea se un'organizzazione si occupa di un problema cronico o di gestire un'emergenza, perché un conto è curare un tumore al seno, che è importante, un conto è spendere soldi perché questo non avvenga, un conto è occuparsi del trapianto di rene di un bambino, un conto è occuparsi delle malattie renali o della fame a lungo periodo o delle emergenze e delle improvvise carestie. Sono due cose diverse. Vanno tutte bene, che sia chiaro, il mio non è un giudizio morale, però se vogliamo cambiare, forse dobbiamo iniziare a pensare che la soluzione ai problemi cronici sia quello su cui noi dobbiamo dare attenzione. e quindi magari scegliere con cura le nostre donazioni e pensare alle organizzazioni che hanno una causa magari meno emotiva, meno appealing, si direbbe in inglese, meno eccitante, però che costruisce di più nel lungo periodo. Secondo punto. A tutti noi viene in mente una grande frase, e la domanda che ci facciamo, se io vi potessi chiedere sostanzialmente qual è la domanda che vi fate prima di donare, è questa. Vi assicuro che noi abbiamo fatto un'indagine più di una volta e in un qualche modo la risposta è stata questa. La maggior parte delle persone, quando prima di fare una donazione si fa questa domanda che percentuale della mia donazione va ai programmi, che percentuale va ai costi generali. Cosa sono i costi generali? Sono stipendi, sedi, marketing, spesa per la raccolta fondi, cioè spesa per raccogliere più soldi, cioè tutti quei costi, virgolette, improduttivi che nella vulgata comune sono visti come uno spreco, una mala gestione. Lavori nel non profit, non vorrei mica anche essere pagato. Questa è un po' l'idea che ci siamo fatti. E finché noi non sosteniamo le strutture delle organizzazioni non profit, non possono crescere. E se non possono crescere non possono cambiare la realtà. Questa è una domanda che dà ai donatori cattive informazioni. Questa è la classica domanda, è la classica situazione che si vede in un sito web, no? Si vede un euro e siamo tutti contenti perché soltanto il 16% delle spese generali sono quelle spese per mandare avanti la struttura. in realtà più abbassi gli stipendi, meno fai marketing, meno fai raccolta fondi, meno usi persone, meno stai a spendere sulla struttura, meno l'organizzazione cresce. In un qualche modo, un piccolo esempio, provate a pensare a queste due mense che si occupano di servizi caritatevoli. La mensa A comunica di avere il 10% dei costi generali, la mensa B il 30%. Se io vi facessi alzare la mano questa sera, l'80% dei voi, senza sapere niente, nessun'altra informazione, darebbe la sua donazione alla mensa A. Senza dubbio. Peccato che potrebbe succedere che la mensa A non funzioni e la mensa B funzioni. Il tema è il risultato che produci, non quanto costi. Ed è incredibile, perché se ci pensate, noi facciamo questo tipo di calcolo esclusivamente sul non profit. Perché se io andassi a casa da un mio amico e gli dicessi, guarda, sai che sono andato in un negozio di scarpe, ho comprato un paio di scarpe, erano, cioè, bruttissime, no? Però avevano dei costi generali bassissimi. Cioè, era una roba piena di buchi, eh? Non mi piacevano. Però ho chiesto alla commessa quanto guadagnava, o il commesso guadagnava pochissimo, l'affetto bassissimo, il telefono non l'avevano, era una cosa fantastica. Ho scelto quelle scarpe. Se voi ci guardate, il costo di progetto su una scarpa di 100 euro, il programma, è 21 euro, il 21%, ma nessuno si lamenta di questo. terzo piccolo consiglio. C'è un gran fiorire di persone che fanno raccolta fondi contro le organizzazioni non profite. Nulla di sbagliato. Nulla di scorretto. Però, in un qualche modo, ci sono casi particolari. Va bene aiutare qualunque tipo di situazione. Però forse non è meglio intervenire sulle radici di questo problema. Questo è un caso di genere. Perché non aiutare le organizzazioni che se ne occupano e che vogliono risolvere il problema alla radice. Piuttosto che aiutare una singola realtà. Massimo rispetto per i coniugi Ferragnes, che in quattro giorni hanno raccolto 4 milioni di euro. La più grande raccolta fondi crowdfunding fatta in Italia. Ma è questo di cui abbiamo bisogno? O forse di un'organizzazione non profit solida che possa interagire nella società in un modo pieno e più completo? Piuttosto che singole raccolte personali. Che vanno bene, non sto parlandone male. Però in un qualche modo sono più rischiose. E ricordatevi che quando parliamo di crowdfunding parliamo di 105 milioni di raccolta fondi all'anno contro i 6 miliardi del fundraising fatto dalle organizzazioni. è abbastanza facile raccogliere sul crowdfunding. Perché è come un busker, un artista di strada che suona in piazza. Hai 15, 20, 30, 50 persone, fai presto a raccogliere un po' di soldi. Ma il problema è mettere in piedi un'orchestra e far suonare la quinta di Beethoven. Quello è più complicato. Quarto piccolo consiglio. Qual è la vostra causa? Mio padre è morto di leucemia e la mia causa è quella. Il mio fratello è. Il mio zio è. Ho visto i miei bambini crescere in l'ambiente, la disabilità, la solitudine. Qual è la vostra causa? Qual è la causa che mi rappresenta? Sceglila con cura. Io dico sempre quando uno deve fare una donazione. Per scegliere un appartamento che devi comprare, quanto tempo ci metti? agenti immobiliari, internet e così via. Cioè scelgo qualcosa che mi rappresenti. Guardo le spese condominali, le spese generali. Guardo all'efficienza energetica, l'efficienza dell'organizzazione. Guardo a tutto, parlo con coloro che abitano vicino. Cioè in un qualche modo faccio una scelta con cura rispetto a quello che io sono. E una volta che ho fatto la scelta con cura, quinto e ultimo consiglio, il mio consiglio è di rimanere lì tutta la vita. Di essere dentro quella causa con le nostre piccole o grandi donazioni 10 euro, 20 euro, 1000 euro, un milione. Però tutta la vita dentro, rimanerci fedeli. Per due motivi. Il primo, il leverage, la potenza economica che voi potete mettere in campo in una vita ha molto più effetto per l'organizzazione, non proprio. Ma la seconda cosa è che nel appassionarmi all'organizzazione non profit, nel donare, poi donare, poi donare, poi donare, divento io stesso un evangelista di quella causa, divento io stesso qualcuno che propone, divento un fundraiser a tutti gli effetti della raccolta fondi. e quindi in un qualche modo la mia persona diventa un soggetto che produce cambiamento nell'organizzazione non profit. Quindi il mio consiglio è rimanere fedeli, leali, alla organizzazione non profit che scegliete. E non saltabeccherate fra una causa e l'altra. 10 euro qui, 5 euro là, 2 euro qua. Una e una sola, con forza, con costanza. Siamo al chilometro zero, siamo in Romagna, c'è una bellissima frase di Pierpaolo Pasolini, che mi ha sempre colpito, che dice i romagnoli sono come gli italiani, ma all'eccesso. È vero, i romagnoli ridono di più, scherzano di più, sono un po' più malinconici a volte, sono un po' più tristi, sono più felici, sono estremamente felici a volte, sono un po' all'eccesso. Il mio invito, quando pensate all'organizzazione non profit, di pensare che potete realmente cambiare la società con un po' di eccesso.